un bel ballo eh forza taram girate piruetta girate oee forza bravo bravo continuate ancora un po' che vi faccio vedere forza andatela forza 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 dai forza girate così bravo ancora girate così bravo così e giro ma hai visto che bravi manu di qualcosa togiti le mani dal naso manu nel cacolo e ti ritiri fuori d'ora lunedì ho tutto il cantiere eh lunedì no io so se con me puoi stare tranquillo con me puoi stare tranquillo qua vicino Greta Tommaso Tommaso venite qua vediamo un po' te come ti chiami? e te? Greta ah sicuro? guarda un po' vedi che sto riprendendo ci riprendiamo insieme noi tutti e tre e lui ci siamo eccoci qua venite qua ciao 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 saluta qua guardate sulla fotocamera guarda la fotocamera ecco qua i miei bambini ecco qua non diciamo niente alla Rachele non facciamo vedere questo video alla Rachele ragazzi eh mi raccomando ciao ma già ce lo faccio vedere possiamo ballare? eh certo